Questa è la prima di Ghiaki, era prima di una piccola Non l'ha fatta un'altra, però era troppo piccola, quindi si te lo giudicano, però non guarda niente Invece faccio questa piccola Sì, è bravo Ghiaki Vediamo un calcio di là dietro Vuvidi che ha toccato le palline, hai visto? Perché se ha toccato le palline loro capiscono se il cane può essere un bravo riproduttore, non è sterile Andiamo alla pangarezza Il petto mio, sì sì, basta